I migliori bonus gratis in criptovalute ad aprile 2023. Quali sono le migliori piattaforme in cui è possibile guadagnare gratuitamente criptovalute ad oggi presenti sul mercato? Ciao da CryptoNFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Ormai è una consuetudine quella di andare a fare, quasi si può dire ogni mese, un recap di quelle che sono le migliori piattaforme che regalano i più alti bonus relativamente al mondo cripto ed NFT ed oggi andiamo un po' ad analizzarne alcune, ce ne sono alcune nuove rispetto all'ultima volta. Prima di iniziare ti ricordo come sempre di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche, è importantissimo per sostenere la nostra community, per darti ulteriore materiale, per darti nuovi video, tutorial sempre aggiornati e soprattutto ti ricordo una cosa molto importante, quella di andare a commentare qui sotto nei commenti se ti va e darci magari alcuni spunti relativamente a questo video o approfondimenti che appunto vuoi chiarire relativamente sempre al mondo cripto ed NFT. Una cosa molto importante, noi non siamo dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto e illustrato all'interno dei nostri video è frutto di anni e anni di esperienza in questo settore. Quindi, come ripetiamo sempre, ogni singolo investimento che tu andai a fare in maniera singola e autonoma appunto deve essere fatto in maniera molto attenta e oculata. Allora, andiamo a vedere un po' quelli che sono i principali bonus ad oggi presenti sul mercato. Come potete vedere, la prima piattaforma che andiamo ad analizzare è quella di hkt.io hkt.io è un exchange molto valido, mi raccomando, piccola premessa, lo diciamo sempre, qui sotto in descrizione trovi tutti i nostri referral link quindi per accedere, per registrarti se non l'hai già fatto all'interno di tutte queste piattaforme che oggi andremo a vedere trovi qui in basso i nostri referral link e registrandoti attraverso questi nostri referral link avrai accesso al miglior bonus presente ad oggi sul mercato. Quindi hkt.io è un exchange che dà la possibilità di avere, comprando almeno 55 euro di una qualsiasi criptovaluta, un bonus fino a 200 euro e questo è uno dei principali bonus che noi sfruttiamo, abbiamo sfruttato in passato e continuiamo a sfruttare sempre che è appunto da uno dei più alti rendimenti ad oggi sul mercato. Un altro exchange molto utilizzato, si può dire che ormai lo conoscono tutti, che è cripto.com è un exchange che in questo caso ti dà un bonus molto importante perché comprando almeno 350 euro di cro, quindi devi acquistare appunto la loro valuta hai la possibilità di avere innanzitutto la carta che come sai ti dà la possibilità di avere un cashback importante su tutti gli acquisti che fai attraverso questa carta che in quel caso di 350 euro se non ricordo male è la carta ruby. Di questo abbiamo ovviamente già fatto un tutorial specifico, vattelo a vedere con tutti i dettagli ovviamente delle carte e in questo caso devi solamente sapere che il bonus in questo caso che ti dà questa piattaforma è di 25 dollari in cro. Anche qui molto interessante perché tieni in considerazione che tutti questi bonus che stiamo vedendo se andiamo a raccimolarli, a sommarli comunque sono soldini, ok? Tenendo in considerazione anche che se il loro valore di mercato dovesse aumentare ci ho guadagnato ancora di più, ok? Una terza piattaforma che adesso andiamo ad analizzare è quella di Binance. Anche qui non sto a spiegare che cos'è Binance, è uno dei principali exchange ad oggi utilizzati su tutto il mondo cripto e in questo caso dà un bonus, come potete leggere, di 100 USDT. Come lo riconosce? Sostanzialmente tramite la registrazione e soprattutto acquistando e scambiando almeno 10 dollari in una qualsiasi cripto dà appunto gratuitamente questi 100 USDT tramite un bonus sulle commissioni. Quindi in sostanza non andrai a pagare le commissioni fino appunto all'esaurimento di questi 100 USDT di bonus, ok? Ovviamente tutte queste specifiche più dettagliate le trovi all'interno di ogni singolo sito, ok? Di ogni singolo exchange, infatti qui se io clicco su FAQ mi si apre un'altra finestra dove appunto ho la possibilità di andare a vedere questi bonus come vengono liquidati in maniera un po' più dettagliata. Però funziona così. Il quarto exchange, il quarto bonus che puoi raccimolare lo puoi fare tramite Coinbase. Anche qui registrandoti tramite il nostro referral link hai la possibilità comprando almeno 100 dollari in una qualsiasi cripto ti regalano un bonus, come puoi leggere, di 10 dollari in Bitcoin. E anche qui è molto interessante perché ad oggi, in questo momento in cui stiamo parlando, il prezzo di Bitcoin sta salendo come un po' tutto il mercato delle criptovalute. Un quinto exchange che dà un bonus importante è sicuramente OKX.com. Anche qui è la possibilità, è uno dei principali dove abbiamo guadagnato di più, sinceramente. È quello che dà la possibilità comprando almeno 50 euro di una cripto specifica, in questo caso ti riconosce un bonus tramite un sistema di mystery box. Quindi casualmente, in maniera random, ti regala fino a 10.000 dollari in una qualsiasi cripto. E ovviamente c'è scritto anche qui. Questo è uno dei principali exchange che, ripeto, dà i più alti bonus in assoluto. Ma, attenzione, segui fino alla fine questo video perché ti faccio vedere, ce ne sono altri che ancora più di OKX sono interessanti. Un altro è Nexo, nexo.com. Anche questo è un altro exchange dove appunto puoi acquistare e vendere le tue criptovalute. In questo caso, registrandoti e comprando almeno 120 euro di una qualsiasi criptovaluta, l'unico vincolo in questo caso di Nexo è che la criptovaluta che tu vai ad acquistare e devi tenerla in staking per almeno 30 giorni. Superati i 30 giorni, ti riconoscono un bonus di 25 dollari, come puoi leggere, in Bitcoin. E anche qui è veramente interessante perché, ripeto, Bitcoin sta salendo come un po' tutto il mercato delle cripto. Qui, diciamo, l'unico vincolo è quello dei 30 giorni che appunto dovrei detenere in staking le tue criptovalute. Però, al di là di questo, una volta finiti questi 30 giorni, puoi fare ovviamente quello che vuoi. Sia della somma che ovviamente tu hai deciso di mettere in staking, che logicamente la puoi nuovamente riscuotere o riconvertire in moneta fiat o comprando altre cripto e poi in più ti ritroverai questi 25 dollari in Bitcoin. Penultimo bonus che andiamo ad analizzare e andiamo a dettagliare è quello di streetbit.com. Questo, secondo noi, è tra i migliori in assoluto perché, innanzitutto, streetbit.com ti dà la possibilità, facendo un deposito, un qualunque deposito, 10 dollari, 100 dollari, 200 dollari, vedi tu, ok? Ti riconosce un bonus di almeno, fino, scusate, a 10.000 dollari. Qui c'è scritto in inglese, ma se io vado tranquillamente a tradurlo in italiano, lo leggiamo bene. E, ragazzi, è veramente una bomba. Soprattutto, un'altra piccola nota che aggiungiamo a quello che abbiamo appena detto, non c'è la necessità, in questo caso, è uno dei pochissimi exchange che, nonostante tu, se tu non decidi di non fare alcun deposito, ti regala comunque un bonus che va da zero, che va in realtà da 1 a 5.000 dollari. Quindi non c'è bisogno neanche che in questo caso vai a fare un deposito, ma grazie alla piattaforma di streetbit.com hai la possibilità, appunto, di avere un bonus anche senza depositare o mettere in staking qualsiasi, una qualunque criptovaluta. L'ultimo exchange che andiamo ad esaminare quest'oggi è, in realtà, non è un exchange, ma è un progetto che anche qui abbiamo esaminato e tante volte, che è appunto quello di Sorar, sorar.com, e questo qui, diciamo, è un progetto che ruota attorno al mondo di NFT. Quindi è l'unico che in questo caso siamo andati ad andare un po' fuori la sfera delle criptovalute perché è molto interessante, molto ambizioso, è molto spinto da tantissime società di calcio e soprattutto da tantissime leghe in Europa, nello specifico, ma non c'è solo il calcio, c'è l'NBA, l'MLB. Per farla breve, questo sito, questo sito che appunto è sorar.com, tramite il nostro referral link, una volta che ci sei registrato, ti darà accesso a 10 card, 10 card, che sono totalmente gratuite. Tieni in considerazione che queste 10 card sono 10 NFT, quindi hanno già un valore loro specifico. Parliamo inizialmente di pochi centesimi di euro, ok, per ogni NFT, però comunque hai la possibilità tramite un meccanismo di gioco, nel caso del calcio puoi partecipare a delle leghe, e vincendole appunto puoi vincere altre card, quindi altre NFT, oltre che dei montepremi in denaro. vatti a legge il regolamento, abbiamo fatto anche noi un video specifico su questo progetto molto interessante, e quindi questo è un altro dei bonus che puoi raccimolare. Signori, speriamo che con questo tutorial che vi sia stato utile, ovviamente questo, tengo a precisare che tutti questi bonus raccimolati sono veramente utili, e soprattutto li stai guadagnando in maniera totalmente gratuita. Per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video per altre notizie sul mondo cripto ed NFT. Ciao e a presto da Luke. Ciao e a presto.